non in questi anni, più avanti le stampe saranno soggette censure se abbiamo tempo a racconteremo anche questa storia poi ecco, un fan dell'epoca vedeva tante cose in questa stampa vedeva subito anche se naturalmente in un ritratto come questo è impossibile riconoscere l'attore perché sono molto stilizzati ma più avanti poi gli artisti ritroveranno veramente l'attore qui in questa fase, come dire, l'artista non disegna l'attore ma il personaggio mentre più avanti, 50-60 anni dopo, gli artisti cominceranno invece a disegnare una fisiologomia, tipo l'artista, se l'attore aveva un grande naso allora gli facevano veramente il grande naso così che il fan poteva riconoscere, nelle sembianze del personaggio poteva riconoscere anche il loro, potevano riconoscere l'attore qui questo è impossibile ma il fan vedeva subito che questo era un attore della famiglia di Chicago da dove lo vedeva? dal cosiddetto mon cioè le grandi famiglie di attori avevano degli stemmi in questo caso sono dei quadranti inseriti uno contro lato quindi vediamo parzialmente vedete uno qua e uno qua ecco già da questo tutti quelli che avevano un minimo di familiarità con il momo dei campi, riconoscevano un attore della famiglia di Chicago e il più grande attore di Chicago di quel tempo era D'Aggiuro proprio questo qua quindi ripeto, qui siamo in primo ordine e ripeto, questa è in realtà una stampa monocroma cioè fatta con il colore nero, il resto è di pipa ma negli anni 60, qui naturalmente facciamo velocemente ci sarebbe tanto da dire ma negli anni 60 si cominciano a fare stampe polifrome cioè stampe con più matrici di legno quindi la cosa, il procedimento diventa sempre più complicato perché il foglio doveva venire indiostrato diverse volte e si faceva una matrice per ogni colore le matrici potevano essere anche molte potevano essere anche qui, non sono molte ma in certi casi potevano essere dieci o anche quindici quindici colori diversi quindi il lavoro era accuratissimo sia quello del decisore che doveva fare le tavole che quello dello stappatore che doveva appunto giocarsi perché ogni foglio doveva ricevere doveva essere tirato su varie tavole qui siamo negli anni 60 quando si cominciano a fare queste stampe polifrome questo è uno dei giganti l'artista che ha fatto questo è uno dei giganti che si chiama Harman e forse vedete subito una cosa la sapienza, l'abilità della composizione con questa strana prospettiva tipicamente giapponese un po' diagonale che cosa vediamo qua? la scena notturna non si capisce perché lo sfondo è nero e c'è una fanciulla che sta reggendo un lume e con il lume illumina un rano un arco di Susina il Susina penso che non è presente con il Susina però l'altro collegamento si potrebbe fare andri, i fiori ricorrono spessissimo nell'arco giapponese ma anche nelle stampe anche nelle stampe qui e notate questa cosa che colpì moltissimo gli artisti del secondo docente europeo forse lo sapete ma i impressionisti, i post impressionisti da Manea, Manea, Falco collezionavano stampe giapponesi e le ammiravano e che cosa che colpì moltissimo l'attenzione di questi occhi acutissimi degli artisti ad esempio il fatto di rappresentare un albero vedete che l'albero, il tronco, entra solo la stampa non è tagliata è proprio così è proprio disegnata così vedete come è ardito questo modo di disegnare l'albero con il tronco che appare solo così questo è ecco e poi invece dall'alto c'è questa pioggia di fiore, di Susino è una composizione sapientissima e andiamo avanti vi faccio vedere naturalmente alcune questa è un po' un'introduzione storica perché poi ci concentreremo un po' di più su un'artista dell'Ottocento che a mio parere è quello che forse può essere più avvicinato alle opere che vediamo qui intorno ecco però voglio dire il tema dell'eroe che è un eroe teatrale e si afferma sin da subito nelle stampa giapponesi non sempre le stampe giapponesi sono errati questa è una frugina vedete diciamo che ci sono due grandi di due temi centrali le stampe in più due che hanno ricevuto più attenzione da parte degli artisti e che erano anche più ricercate dal pubblico cioè le stampe di attori gli attori del Kabuki e le stampe delle cortigiane la parola cortigiane è un enfonile è un eufemismo naturalmente perché si tratta di prostitute però vabbè ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo perché nel Giappone nelle città in alcune città giapponesi del settecento e dell'ottocento a Edo Edo era Tokyo prima del 1868 Tokyo si chiamava Edo Edo e Osaka in particolare in queste città la prostituzione fu un fenomeno di una ricchezza di una complessità che era difficilmente raddito in altre in altre città per varie ragioni ma voglio dire la cortigiana soprattutto quelle di alto bordo erano personaggi famosi e ammiratissimi le stampe di cortigiane erano avidamente collezionate anche dalle mogli dei cioni dalle mogli dei poichesi perché? perché le cortigiane erano quelli che facevano tendenza nel modo di acconciarsi i capelli nel modo di legarsi la cintura con la pesante cintura che si porta che portano le donne giapponesi quando mettono il kimono quindi c'era e poi le cortigiane c'erano le prostitute da Trilvio per non usare parole di un regale ma c'erano anche quelle che potevano permettersi assolutamente di visitare i clienti se non gli andava a genere erano comunque legate e proprietà del temutario della carne non facevano una vita non erano freelancer erano schiave erano vestiti da regine ma erano schiave del temutario che così le poteva affrancare anche però costava moltissimo affrancare una cortigiana di alto poi facevano effetto una vita terribile perché la fioritura della bellezza durava poco quando avevano poi 35-40 anni spesso facevano una vita fine avevano una vita media spaventosamente bassa intorno ai 25 anni comunque andiamo avanti perché se mi perdo di ecco ammettate che siamo negli anni 80 del 700 questo è un altro grandissimo artista che si chiama La Chione questo è un titico cioè sono due stampe che venivano vendute separatamente quindi uno se voleva poteva anche comprare una sola perché in effetti se ci pensate una delle due stampe ha una sua autonomia cioè è bella anche se è da sola prendete questa sinistra immaginatela da sola prendete questa destra immaginatela da sola stanno bene anche a Sirio però per invogliare il pubblico a comprare di più si facevano dintici o trentici che è molto frequente così che insomma se uno c'era la parte sinistra voleva comprarsi anche anche la parte destra e anche qui bisogna sempre guardare la cura che mettevano questa fisica nella composizione vedete questa è Anna 1 vedete dicevano Anna 1 e c'è una serie di personaggi seduti qui siamo sicuramente in una casa di piaceri questa stampa ha un titolo vedete il titolino scritto qua in alto sarebbe i 12 mesi nel sud nel sud dietro perché poi era un quartiere medievionale della città e questo qui si vede sullo sfondo si vede la raccolta dei burluschi con la bassa marena cioè la bassa marena è la baia di Tokyo è la baia di Edo e ci sono vedete questi puntini qua sono degli uomini che stanno raccogliendo i burluschi e negli anni 80 in questo periodo del 1700 comincia un po' la stampa qui è la prisa al paesaggio è la prisa